Allora, buongiorno, affrontiamo il teorema dell'unicità del limite, teorema molto molto importante, uno dei primi teoremi che si studia per quanto riguarda i limiti, però prima ovviamente di fare questo teorema, perché molte volte non si riesce a capire questo teorema? Perché alla base di tutto c'è la cosiddetta definizione di limite, questo è molto importante, se non si sa questa è inutile fare il teorema dell'unicità del limite. Allora, definizione di limite, supponiamo di avere una funzione f di x, quindi una funzione continua in un intervallo, quindi sotto insieme di r, e supponiamo che nel punto c la funzione sia proprio uguale ad l. Quindi, cosa significa? Che al limite che io tendo a c, proprio nel punto c, la funzione è uguale ad l. Allora, definizione di limite qual è? Allora, supponiamo di prendere un epsilon, un epsilon maggiore di 0. Che cos'è un epsilon? È un segmento, ecco questo qua l'ho segnato qua, questo segmento, un piccolo quanto voglio, in questo caso l'ho fatto di questa dimensione. Per cui, questo epsilon a cavallo di L, al di sopra avrò L più epsilon, al di sotto avrò L meno epsilon. Perfetto. Se io proietto queste due quantità, queste due misure sulla funzione, si verrà a creare, vedete, un intorno i di c, un intorno del punto c, che è questo. Ok, quindi, qual è la definizione di limite? Che è, per ogni epsilon maggiore di 0 che io vado a prendere, e quindi questo epsilon io lo metto a cavallo di L, si viene a creare, quindi esiste un intorno i di c, tale che per ogni x appartenente all'intorno di c, tutt'al più escluso il punto c, ok? Quindi tutt'al più escluso questo punto, f di x meno L è minore di epsilon. Cosa significa? Osservate un attimo, osservate un attimo. Se questa è la x che io prendo nell'intorno di c, quindi per ogni x appartenente all'intorno di c, che sia questa o che sia questa qua, la f di x, come se la prendo qua ad esempio, f di x sarà compresa fra L meno epsilon delle più epsilon. Anche qua se la prendo qua, la f di x, che è questa, perché a questa x corrisponde la f di x, sarà compresa sempre fra L meno epsilon delle più epsilon. Se si verifica questo, allora effettivamente questo è il limite finito per x che tende ad un valore finito, quindi la definizione di limite generica. Ragion per cui, f di x meno L meno di epsilon, perché lo scrivono così? Perché questa è una dimensione, un valore assoluto. f di x meno epsilon sarebbe, osserva bene, sarebbe questa parte qua. Cioè, se questo è f di x, questo punto è f di x e questo è L, f di x meno L è questo segmentino qua. Ed è sempre minore di epsilon, di quello verde, quello più grande. Allora, f di x meno L è questo, un attimo, eh. Allora, questo è f di x meno L in valore assoluto, che sia questo f di x meno L o questo f di x meno L, questo segmento qua, ovviamente, in valore assoluto sarà sempre minore di questo segmento verde. Questo modo di scrivere f di x meno L minore di epsilon, per la proprietà dei valori assoluti, poi, è come scrivere anche f di x compreso fra L meno epsilon e L più epsilon, che è quello che abbiamo graficamente visto prima, f di x compreso fra L meno epsilon ed L più epsilon. E questa è la definizione di limite. Perfetto, adesso passiamo al teorema, invece, dell'unicità, al teorema dell'unicità del limite. Allora, cosa dice questo teorema? Allora, questo teorema, molto banalmente, afferma che se esiste il limite per x che tende a c di f di x e questo è uguale ad L, con L ovviamente appartenente ad R, allora L è unico, questa è la tesi. Cioè, praticamente, questo, se io ho una funzione, questo è un punto c, al limite per x che tende a c, f di x è uguale a L. E questa è una cosa molto scontata, è ovvio, perché non può essere che per un valore di c io ottenga due valori di L perché non sarebbe più una funzione. Cioè, decade proprio il concetto di funzione così. Allora, siccome è talmente banale sta storia, che la dimostrazione viene fatta per assurdo. Come? Negando la tesi, cioè proprio questa tesi qua. Cioè, L è unico, questa è la tesi. La nego. E come faccio a negarla? Beh, in questo modo. Prendo, supponiamo che il limite per x che tende a c di f di x è uguale ad L. E quindi siamo qua. Non posso disegnare la funzione perché una funzione del genere, ripeto, non esiste. Ok? Quindi, a c ottengo L. Poi, supponiamo anche che il limite per x che tende a c di f di x è uguale ad M. E quindi siamo qua. Ok? Quindi qua, ovviamente, ci possiamo mettere M. Ok? Avevo dimenticato di... Allora, per x che tende a c ottengo un valore M. Con M maggiore di L, supponiamo. Sono soltanto ipotesi, le sto supponendo. Supponiamo poi di scegliere anche una epsilon, ovviamente, maggiore di 0. E io voglio che questa epsilon, ad esempio, sia M meno L fratto 2. Quindi M meno L diviso 2. Quindi, approssimativamente, questo segmento qua. Chiaro? Cioè, devo fare tutto questo segmento, a partire da 0, M meno L, quindi ottengo questo segmento, diviso 2, diviso la metà. Quindi, supponiamo, quindi, di avere questo segmento in rosso e questo qua in verde. Allora, se epsilon è maggiore di 0, per la definizione di limite che abbiamo visto prima, esisterà un H con 1 e un H con 2, perché abbiamo due valori, L ed M. Ok? Quindi per L abbiamo questo qua, H con 1, che ho segnato in verde, e per M abbiamo H con 2, che ho segnato in rosso. E quindi, per tutte e due vale la definizione di limite. Cioè, dovrei scrivere F di X compreso fra L meno Y ed L più Epsilon. Vedete? Vedi? L'ho segnato in verde e quindi, questo qua in verde, mi rispecchia la definizione di limite per L. Ma poi anche per M. F di X deve essere compreso fra M meno Y ed M più Epsilon. Per ogni X appartenente invece ad H con 2, che sarebbe invece l'intorno in rosso, l'intorno di C. Perfetto. Adesso, qua c'è la cosa più importante. Osserviamo che H con 1, intersezione H con 2, è comunque un intorno di C. H con 1, questo qua in verde, intersezione H con 2, devo prendere la parte in comune, quella che ho segnato in blu. Questa qua, tutta questa parte qua. Ok? Allora, H, generico, sarà uguale a intersezione di H con 1 con H con 2. Però, a questo punto, per definizione di limite, deve valere simultaneamente, cioè in contemporanea, quindi faccio un sistema, F di X sarà compreso fra L meno Epsilon ed L più Epsilon. Per questo motivo. F di X sarà compreso fra M meno Epsilon ed M più Epsilon. Essendo M maggiore di L, ovviamente avrò F di X compreso fra M meno Epsilon ed L più Epsilon. E qua si spegne la luce e lo dice perché? Vediamolo, perché ve l'ho fatto qua il grafico. Se M è maggiore di L, supponiamo che questo, siccome adesso, vede, simultaneamente, no? Per definizione di limite deve essere questa situazione. Allora, quindi un sistema, allora, supponiamo che questo sia M maggiore di L, questo sia l'intorno di M, quindi qua avrò M meno Epsilon ed M più Epsilon, e qua avrò un intorno di L, quindi qua avrò L meno Epsilon e qua L più Epsilon. Ovviamente, se io vado a intersecare questi due intorni, otterrò questo intorno che, e quindi la F di X sarà compresa fra cosa? Fra M meno Epsilon, valore più piccolo, e L più Epsilon. Ed ecco perché viene fuori questa scrittura. Perfetto. Ma, attenzione a questa scrittura. Scrivere in questo modo, semplificare qualcosa, cioè togliere la F di X, segue che M meno Epsilon è minore di L più Epsilon. E se questa Epsilon la porto dall'altra parte e questa L dall'altra, avrò due Epsilon maggiore, leggo la destra verso sinistra, due Epsilon maggiore di M meno L. Ossia, Epsilon sarà maggiore di M meno L fatto 2. Ma sono arrivato a questa considerazione, come vi ho scritto, infatti, questo nega l'ipotesi. Io avevo scritto che M, Epsilon, deve essere uguale a M meno L fratto 2, e non maggiore. Quindi io nego l'ipotesi Epsilon uguale a M meno L fratto 2, e quindi, alla fine, negando un'antitesi, perché questa in realtà è un'antitesi, no? Qualcosa che è opposta alla tesi, ok? Quindi negando l'antitesi confermo la tesi, cioè che L effettivamente è unico, cioè non può essere questa situazione qua, perché durante la dimostrazione ovviamente viene contraddetto questa eguaglianza, viene contraddetto questa eguaglianza, quindi non può essere diversamente. Ok, questo era il teorema dell'unicità del limite, quindi il limite di una funzione, se esiste, è unico. Non esistono funzioni che ammettono più valori di L per un valore di X, assolutamente. Quindi questa è la dimostrazione per assurdo, e spero di essere stato chiaro, e alla prossima.